Sicurezza, ordine pubblico, prevenzione. Il prefetto di Ragusa Giuseppe Ragnani fa il punto della situazione sugli interventi realizzati e su quelli in programma nell'ottica di una profonda sinergia con tutti gli attori istituzionali e non del territorio Ibleo. Noi stiamo facendo sistema e stiamo cercando di allergare questo concetto sinodale, quando parliamo di sicurezza, anche agli enti locali, coinvolgendo anche le rappresentanze e le associazioni del terzo settore, perché è un sistema che può imprimere il concetto di legalità. Noi monitoriamo costantemente le situazioni, già anche quest'estate abbiamo disposto un controllo sulle attività danzanti, in genere sulle attività commerciali, che per il flusso turistico di particolare rilevanza interessa le nostre coste, al fine di garantire la tranquillità dei cittadini. Il tutto è stato fatto con controlli non a spot, ma con controlli su tutti i comuni costieri. Questo ci ha gratificato perché siamo riusciti a coniugare quello che dicevo inizialmente, il concetto di controllo del territorio con attività mirate, con il principio di percezione della legalità e avere il riscontro da parte della cittadinanza di interventi coesi, omogenei, articolati, per imporre le regole e l'applicazione concreta delle norme statali. È stato sicuramente un incettivo a creare quel concetto del rispetto dello Stato, del rispetto delle regole, che è preordinato ad ogni attività di contrasto sanzionatorio a fenomeni illeciti. I comuni in questo momento, soprattutto dopo la fase dell'emergenza Covid, stanno vivendo un momento di grave difficoltà economica e anche di blocco assunzionale. Molti comuni sono anche in una situazione di equilibrio di bilancio precaria, quindi gli investimenti sul incremento delle risorse umane diventano sempre più difficili. Ma questo non ci deve condizionare nel pensare che certi risultati non si possono aggiungere. Noi riusciamo, e questo devo dire grazie anche ai sindaci, riusciamo anche a trovare delle soluzioni operative che ci consentano di garantire quel controllo e quella presenza sul territorio in maniera costante.